Come ogni anno si rinnova il cronico ritardo di molti comuni nell'approvazione dei propri bilanci di previsione oltre che di quelli consuntivi. Una criticità che da un lato evidenzia la farraginosità di alcuni passaggi amministrativi e dall'altro invece viene indicata come una problematica di capacità organizzativa. Già perché proprio trattandosi di bilanci preventivi riguardano gli interventi da attuare durante l'anno ed il fatto che alla vigilia di giugno molti enti non abbiano ancora proceduto con l'approvazione dei documenti finanziari lascia qualche perplessità. Proprio per questo la prefettura d'Imperia ha inviato una lettera a firma del prefetto Silvana Tizzano a tutti i comuni della provincia che si trovano in questa situazione. Si tratta di 25 comuni pari quindi al 37 per cento del totale dei 67 comuni dell'estremo ponente ligure. Sono Armo, Caravonica, Chiusavecchia, Cipressa, Cosio, Costa Reinera, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pianlatte, Pietra Bruna, Pieve di Tecco, Ponte d'Assio, Pornassio, Ranzo, Vasia, Vessalico, Sanremo, Imperia, Camporosso, Riva Ligure, Soldano, Diano Marina, Pigna, Apricale e Isola Bona. Alcuni sono quindi piccoli centri, altri invece sono le principali città della provincia come il capoluogo Imperia la cui discussione sul bilancio è iniziata proprio in questi giorni, Sanremo che affronterà la pratica in queste ore e Diano Marina. Adesso dopo questo monito se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione della prefettura il documento contabile consuntivo 2015 e di previsione 2016 non saranno approvati in consiglio sarà nominato un commissario ad acta che si insedierà nei comuni inadempienti per chiudere lui stesso la pratica.